Sferata all'arte culinaria italiana, pasta alla carbonara cremosa, gustosa e resistibile per deliziare il tuo palato, per una carbonara autentica, utilizzi al guanciale, ricco di sapore, dare alla tua pasta un tocco rico è inimitabile, la vera carbonara non contiene panna e il segreto metti tuorli d'uovo, pecorino romano grattugiato e pepe nero, spaghetti o regatoni entrambi vanno bene, ma la tradizione suggerisce gli spaghetti, celli la quali per un risultato perfetto, freggi il guanciale a fuoco medio senza aggiungere oli, il grasso rilasciato sarà la base per un sapore incredibile, unisci il guanciale fritto e la sua grassa salsa alla pasta, aggiungi la crema di uova e pecorino e mescola vigorosamente, ecco la tua pasta alla carbonara, cremosa, sepolita autenticamente italiana, aggiungi una spolverata di pecorino e pepe a piacere.